Mi chiamo Alina Quintana e sono una dance coach. Due anni fa la mia vita era completamente diversa. Ho incontrato Giacomo Bruno sui social. C'era una pubblicità che invitava a scrivere un libro e ho deciso quel giorno di cambiare la mia vita. Sul mio conto corrente c'erano 10.000 euro, esattamente i soldi che volevo investire per comprare una casa a Cuba, nel mio paese di origine. Mi trovavo in quel momento a un bivio, scrivere un libro o comprare una casa a Cuba. Ho scelto di ascoltare il mio cuore e scrivere un libro. Il libro l'ho scritto su Danza Classica, per donne sopra i 40 anni. Danza Classica No Under 40 è diventato bestseller in un giorno e da lì la svolta della mia vita. Oggi sono creatrice, autrice bestseller del metodo che aiuta le donne a realizzare il sogno della danza classica. Insieme a questo altri progetti sono partiti come lezioni online e offline. Più di 400 donne in tutta Italia mi seguono e anche una linea di abbigliamento. Oltre a questo anche vacanze studio in crociera MSC per realizzare altri sogni ancora. Tutto questo grazie all'avere scritto un libro, un libro con Giacomo Bruno. Oggi mi trovo qui a raccontare la mia storia, il mio caso di successo al corso Wake Up Call di Alfio Bardola. E sono veramente felice di potervi consigliare di prendere questa strada, di ascoltare tutte le indicazioni che vi stanno dando e di seguire questi grandi mentori che già ce l'hanno fatta. Agisci!